Battiti dalla caverna Stiamo seguendo le orme Sì, i segni sono inconfutabili E Magistà, io lo sapevo che era Magistà Quello quando viene qui ferma con le proprie impronte E allora, sì, al graffio parleremo di detective Di agenzie investigative Gli occhi indiscreti Ma noi siamo spiati Ne parleremo al graffio Ore 21, Telenorma 7 Di chi sono queste? E' sporco oppure sono le orme di Magistà? Tre ursi Tre ursi L'intimo che lascia il segno Rodezza La forma del benessere mediterraneo A marzo i giorni volano verso l'estate E le rondini verso il caldo A marzo volano i cappotti Le calze pesanti E i cappelli di lana A marzo i pensieri prendono il volo verso il mare E le allergie verso le città A marzo, se guardi bene, puoi vedere volare un po' tutto Anche le lavatrici All'Ipercoop All'Ipercoop vorano gli sconti smisurati di marzo Medimax 199 euro 24 rate a tasso zero E paghi ad agosto Medimax Unica sede a Bari Finalmente anche a Bari è arrivato Wash Dog Vediamo 47, 48, 49, 50 Ti vedo, vedo Con questo numero un bambino lo troviamo di sicuro Adottiamo a distanza un bambino eritreo 1, 2, 3 Liberi tutti Su con la vita Che fare il volontario Ti si aprono gli orizzonti Forza, stiamo tutti aspettando te Basta, non ne posso più, voglio andare a casa Certo che andiamo a casa A casa di chi ha bisogno? L'Anto ogni giorno assiste a domicilio i malati di tumore Gratuitamente e con amore Aspettatemi Dalla caverna Battiti Battiti Dalla caverna Bene Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti